E' alla notte bianca di Natale, ed era l'ultima notte degli alpini, silenzioso come frullo d'ale, c'era il fuoco grande nei cammini. Nella pianura grande e sconfinata, e lungo il fiume pare a come un lamento, una negna triste e desolata, che piangeva sull'alito del vento. Cammina, cammina, la casa è lontana, la morte è vicina e c'è una campana che suona, che suona, tim-tom-tom-tom, che suona, che suona, tim-tom-tom. Mormorando, tremando, centomila voti in stanza. Veschi morti, stati ritrovati. Veschi morti, c'è la calda. 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 Ha bestemmiato? Ha bestemmiato. Questa è la tua collezione. coisas che sono. O che stavolamo? Ci sono due stavolazione? Non sono due stavolusciare. Ci sono due stavolazione. C'è la piccola. Ci sono delle forze. La c'è la piccola. È che la piccola. Ci sono due stavolazione. All'adono il sonno dei bambini Cammina, cammina, la guerra è lontana La casa è vicina e c'è una campana Che suona al piano di un ton-tam-tam Grazie a tutti.